La piaga dello spaccio di droga sembra alimentare i continui focolai nella provincia teatina. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Chieti ha intensificato i controlli su strada, nel corso dei quali sono stati sequestrati circa 400 grammi di sostanze stupefacenti e sono stati arrestati due giovani di Ortona, poco meno che trentenni, per detenzione ai fini di spaccio di droga. In particolare i militari della tenenza di Ortona, diretti dal sottotenente Giancarlo Passeri, con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga del gruppo di Pescara, hanno fermato l'auto su cui viaggiavano i due ragazzi. All'interno della vettura sono state rinvenute 300 grammi trascisce marijuana. Le successive perquisizioni nelle rispettive abitazioni hanno portato i finanzieri a scoprire ulteriori sostanze stupefacenti. In particolare 53 grammi di hashish e 35 di marijuana, nonché due bilancini di precisione e due lame. I due giovani pusher sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del PM di turno presso la procura di Chieti, la dottoressa Marica Ponziani, ora sono ai domiciliari. A seguito di giudizio direttissimo, il giudice monocratico, in attesa del processo, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera presso gli uffici della tenenza di Ortona dei due responsabili.